fatto tutti pronti si parte è davvero incredibile questo è il mostro di Loch Ness africano e se esiste lo troveremo che razza di uccelli sono capitano allontaniamoci forza forza cosa è successo qui andiamo a vedere dovrebbe funzionare ancora è un visore notturno che diavolo è stato correte l'acqua è fredda credo sia profonda molto profonda grazie a tutti